Cambiamenti climatici e problemi di mancanza di pascolo hanno fatto emergere le grosse difficoltà degli apicoltori. Per questo la 3B, che si occupa di alveari e che con un sistema di monitoraggio da remoto, ha deciso di promuovere una piantumazione coinvolgendo apicoltori e anche proprietari terreni che abbiano lo spazio necessario per l'iniziativa. L'obiettivo è creare oasi verdi per portare beneficio per l'ambiente e per la vita delle api. Le piante verranno consegnate gratuitamente e sarà dato un contributo di 2 euro a pianta ogni anno in cambio di una documentazione fotografica che testimoni nel tempo il benessere degli alberi e dell'oasi. Siamo in contatto con circa 3.000 apicoltori, i quali hanno dei grossi problemi negli ultimi anni. Vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per l'uso massiccio di pesticidi e vuoi per una mancanza di pascolo. Abbiamo pensato di aiutare in due modi l'ambiente e gli apicoltori, proponendo loro di piantare alberi nettariferi. Grosso modo l'oasi ideale, quella che ha un senso sia a livello di oasi nettarifera, sia a livello di assorbimento di CO2, è quella di un centinaio di piante. Se sono 80, 120, va bene uguale. Abbiamo un obiettivo piuttosto ammizioso che è di un milione di alberi. Però le prime 10.000 piante le paghiamo direttamente noi e diamo alle persone che si occuperanno della cura di queste piante anche un contributo annuale di 2 euro a pianta. Andate sul nostro sito che è 3b.com o riempite dei form o mandate direttamente la mail è 3b.apicoltura.gmail.com, è la mia mail personale, mi lasciate il numero di telefono, ci sentiamo e io vi spiego più dettagliatamente come funziona questo progetto.